Si raccusa a tentata, violenza sessuale, minacce aggravate, lesioni aggravate. Arrestato un 37enne straniero. Uno straniero di 37 anni, regolarmente residente nel territorio nazionale, deve rispondere dei reati di tentata e violenza sessuale, minacce aggravate e lesioni aggravate perpetrate nei confronti dell'ex compagna, una donna anche la straniera di 30 anni. Nel pomeriggio di ieri, agente della squadra mobile hanno eseguito all'uomo già conosciuto alle forze di polizia un'ordinanza di custodia cautelare in regime domiciliare emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa nei confronti del soggetto regolarmente residente nel territorio nazionale ma già conosciuto alle forze di polizia. L'uomo è accusato dei reati di tentata e violenza sessuale, minacce aggravate, lesioni aggravate perpetrate nei confronti dell'ex compagna, una donna anche la straniera.